Bene, grazie, mi complimento molto col forum giustizia, con Andrea Orlando, con tutti coloro che vi partecipano per la evidente centralità politica di questa conferenza nazionale e per la vastità e la complessità dei temi che Andrea ha trattato nella sua relazione iniziale. Io farò un intervento breve perché mi sono chiesto in questi due anni, da quando ho l'incarico di presiedere il forum sulla sicurezza e sulla difesa del Partito Democratico, quale relazione, mi ha confortato molto la relazione di Andrea, quale relazione ci sia oggi tra la questione giustizia e la questione sicurezza nel nostro Paese. E se ci sia una connessione forte, come io penso e come anche Andrea ha sottolineato, che riguarda le idee che il Partito Democratico ha espresso in questi due campi, in questi anni, nelle sue scelte programmatiche, in quelle che abbiamo poi votato nelle nostre assemblee nazionali. E se ci sia infine un filo rosso che lega le idee che in questi campi abbiamo promosso, abbiamo approfondito, abbiamo comunicato come oggi e la stagione post-berlusconiana che stiamo vivendo, che impone a tutti noi che facciamo politica, noi che facciamo politica del Partito Democratico e che così proprio la pensiamo, di non nasconderci più, perché ormai non è più possibile, dietro l'alea del nemico, ma di chiarire prima di tutto che cosa noi pensiamo e che cosa noi siamo in questi due campi. Ovviamente la risposta a queste domande rettoriche è ovviamente sì. Io penso che le idee che sono state espresse in questi due campi, quello della giustizia e quello della sicurezza, in questi anni, con la segreteria di Perluigi Bersani, ci impongono come grande forza riformista che è stata capace, e lo abbiamo fatto quando eravamo ancora all'altra pagina, quella di Berlusconi, capaci nelle proposte che abbiamo fatto, di cui avete parlato oggi e di quelle che brevemente accenerò nel campo della sicurezza, di tenere insieme la dimensione della capacità di riforma del Paese e di respiro di chi si candida a governarlo, a governare i fenomeni prima ancora del cambiamento. In uno studio che il Partito Democratico ha commissionato proprio mentre io iniziavo il mio incarico, su delega del Segretario Nazionale, uno studio molto approfondito che abbiamo fatto fare a un istituto di ricerca in lungo e largo per il Paese, con oltre 1.500 interviste, tra le varie domande a cui abbiamo sottoposto i cittadini italiani sul tema della percezione di insicurezza, i cittadini italiani hanno indicato tre chiavi fondamentali nella lotta alla percezione di insicurezza del Paese e dei cittadini stessi. Il primo è la presenza visibile delle forze dell'ordine. Permettimi, Andrea, di complimentarmi ancora per il grande applauso che qui ho sentito da parte di tutte le rappresentanze del mondo della giustizia che fino adesso hanno parlato e che parleranno ancora al lavoro che voi avete fatto, alla continuità di questo lavoro, alla profondità di questo lavoro e al sistema di relazioni che è stato messo in campo. E' la stessa risposta che, devo dire, abbiamo noi nel campo della sicurezza. Proprio poche ore fa eravamo insieme alle rappresentanze sindacali del mondo delle forze dell'ordine, della sicurezza, del soccorso pubblico, visto che anche qui ci sono degli amici che hanno partecipato a quell'incontro con il sottoscritto e con Enrico Letta sulle questioni che riguardano il trattamento di quel mondo. Quindi i cittadini hanno risposto alla presenza visibile delle forze dell'ordine, la capacità di controllo amministrativo del territorio da parte delle amministrazioni locali e una giustizia giusta con una certezza della pena. Il tema del funzionamento della giustizia, e come avete detto voi, non solo di un'efficienza sterile della giustizia, ma di una giustizia capace di salvaguardare i diritti, è un tema che entra a pieno titolo nella battaglia contro l'insicurezza dei cittadini. I cittadini conoscono bene la relazione tra il ruolo del funzionamento della giustizia, della necessità della sua efficienza, della sua rapidità e della sua certezza e la crescita della percezione di insicurezza. Il malfunzionamento della giustizia è uno dei fattori che determina insieme agli altri l'aumento della percezione di insicurezza. E si baddi che nella nostra ricerca, come nelle altre ricerche che sono state fatte nello stesso periodo, quella dell'Istat, un livello di percezione di insicurezza che colpisce circa mediamente il 50% della popolazione italiana, va confrontato in realtà con un 10% dei cittadini italiani che in realtà oggettivamente sono oggetto di reati. Tra quel 10% reale di reati che subiscono i cittadini e quel 50% di percezione di insicurezza sta uno spazio grande, un ruolo della politica che deve portare a risolvere quei punti che i cittadini stessi ci comunicano. È evidente che nella crisi globale che determina nuove forme di diseguaglianza cresca la percezione di ingiustizia e di insicurezza in tutto il mondo. Noi abbiamo in questi anni nel campo della sicurezza voluto rimettere al centro della discussione alcune questioni che si erano andate perdute o peggio erano state spostate, traslate in altri campi. L'amministrazione della sicurezza, così come quella della giustizia, sono compiti fondamentali dello Stato centrale che li amministra per il supremo fine del bene comune, del bene pubblico. Ogni altra deriva che in questi anni ha spinto da un lato nel vostro campo verso un dispendio di forze e di tempi inauditi verso la giustizia ad persona e nell'altro campo verso la sicurezza fai da te. Penso alle ronde dei cittadini, penso all'idea anche dei sindaci sceriffi, penso al sovvertimento dell'ordinamento che prevede, come dal legge 121 del 1981, l'autorità di rappresentanza politica nel prefetto, l'autorità tecnica del questore come gestore della sicurezza, penso a quell'idea che invece di trasformazione, che i sindaci potessero avere un potere deliberativo che superava addirittura quello del prefetto, penso ai vari pacchetti sicurezza che hanno tentato di portare questo Paese in un'altra direzione, verso un federalismo della sicurezza che traslava, travisava e spostava il significato costituzionale. E penso anche al depauperamento drammatico delle risorse che in questi due campi c'è stato, e voglio dirlo anche con un conseguente attacco alla dignità di chi, da parte dello Stato, rappresentando lo Stato, lavora in questi due comparti. L'insieme di queste cose ha costituito in questi anni un attacco pericoloso ai fondamenti costituzionali. La sicurezza del Paese, e ancora di più la sicurezza dei cittadini, è un nodo centrale del welfare complessivo di questo Paese, che non può che interessare a noi che ci candidiamo a governarlo il Paese, che ci candidiamo a cambiarlo. Io penso che nel Paese si stia voltando pagina, che non sarà breve, che ci lasceremo però alle spalle quell'altra stagione, e che chi come noi si candida a chiudere quella fase della storia italiana e ad aprirne un'altra, non può non avere al centro della propria identità questi due temi associati, della giustizia e della sicurezza per i cittadini. Grazie.